Eccoci con Luciano Manna, fotoreporter e media attivista della redazione di Peace Link, la conoscete, la sua nota associazione ambientalista. O tra le mie mani, i giorni di Parigi, Mem, Pa, Per. Una raccolta di fotografie che riguardano un particolare momento della Francia, di Parigi in particolare, corredata questa raccolta da commenti. Luciano Manna, di cosa si tratta? Si tratta di un progetto fotografico che è nato dal nostro impegno a partecipare ai lavori di tutte le ONG del mondo che manifestavano a Parigi in concomitanza di Coppa 21. Quindi questo incontro che riunisce 195 paesi di tutto il mondo per impegnarsi in politiche ambientali. E al centro sociale e culturale Sentecatra ci si incontrava appunto per organizzare la manifestazione. E avevamo progettato il viaggio in estate, però poi come sappiamo qui a novembre ci sono stati i terribili fatti degli attentati. Abbiamo comunque deciso di raggiungere lo stesso Parigi e ci siamo trovati un mese, esattamente un mese dopo gli attentati, con Coppa 21, la manifestazione di tutte le associazioni, ed anche con il ballottaggio delle regionali francesi che insomma creava un certo fermento. Insomma Parigi ho provato a raccontarla in queste fotografie, in questo progetto fotografico dove appunto vengono illustrati i momenti più essenziali. Ho notato Manna dal mio occhio, dal mio angolo visuale non certo di tecnico, delle foto che colgono perfettamente i volti umani nelle loro espressioni, nelle loro manifestazioni dei vari stati d'animo e poi i vari luoghi, i vari monumenti che sembrano quasi animati. Ecco questo connubio tra volti e monumenti e opere come dire fisse. Si umanizzano anche queste ultime? Assolutamente sì perché hai colto un aspetto fondamentale. Per esempio il Place de la République era praticamente 24 ore su 24 un luogo vivo dove si incontravano le persone, pulivano i ceri, ne mettevano altri, si dialogava e quindi il monumento diventava assolutamente vivo grazie a questa condivisione perenne. 24 ore su 24 Parigi non si fermava mai. Beh Luciano un in bocca al lupo forte, conosciamo bene il tuo impegno, impegno sul campo, impegno ambientalista, impegno per la difesa della vita e dei diritti umani. Grazie e soprattutto insomma detto Radeca, insomma di impegni in campo gli emessi e quindi grazie. In bocca al lupo. Grazie.